La Biblioteca La Biblioteca Nicolò e Paola Francone è il luogo di scoperta per i più piccoli. La Biblioteca Nicolò e Paola Francone è il luogo di scoperta per i più piccoli. Spazio di ricerca e svago per giovani adulti. Ma è anche offerta di informazione quotidiana. Contatto con il resto del mondo. Luogo di condivisione e divertimento. Storia e cultura del territorio. Memoria del nostro passato. La Sala Francone ospita la parte più antica della biblioteca, fondata nel 1888 da Nicolò Francone con grande attenzione alla cultura umanistica e agli studi tecnici. Nata come Biblioteca Popolare della Società di Previdenza e Istruzione, nel 1939 diventa Biblioteca Civica, contribuendo al processo di alfabetizzazione del territorio. A 50 anni dalla scomparsa del suo fondatore, la biblioteca continua a rinnovarsi per venirti incontro. Ti serve un libro che qui non trovi? Non preoccuparti, Chieri fa parte dello SBAM, il sistema bibliotecario dell'area metropolitana, che mette a tua disposizione 1.700.000 libri, DVD, CD e giornali. Prenota ciò che ti serve anche da casa e ritiralo dove vuoi. Puoi scegliere tra 65 biblioteche. Non ti costa nulla. La Biblioteca Francone ti aspetta in via Vittorio Emanuele II, 1. Grazie a tutti.